Non lo sapevo, quindi dispiace, però non attendiamo poi l'esito di quello che sarà il continuo, quindi quello che puoi dire ora non serva a niente, quindi umanamente mi dispiace per Polo. Abbiamo creato molto a Sassuolo rispetto a quello magari che è stata la partita con l'Atalanta, che era una partita diversa perché era una partita fisica, avevamo delle defezioni, quindi potevamo fare meglio. Però è un cammino che si chiuderà il 26 maggio. Ripeto, l'importante è rimanere attaccati nelle prime quattro. Se non è un po' preoccupato da questa catena di infortuni anche muscolari... No, ferma, aspetta, 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 aspetta. Catena ci vuol della calma, perché se no... Serie di infortuni. No, serie, no. Beh, Alessandro, Pogba... Pogba che? Pogba ha avuto un problema fisico prima di fermarsi, comunque ha avuto un risentimento. Pogba ha avuto un problema muscolare. Dove? Non si è allenato per tutta la tournée. Come? Tutta la tournée l'aveva saltata, poi è tornato, poi ha avuto un problema, poi c'è stato questo caso. Tutta la tournée è stata da questo caso? Non lo dica lei, avete detto problema muscolare. Il ginocchio? Voi scrivete problemi muscolari? Noi scriviamo quello che ci dicono. Come? Scriviamo quello che ci dicono. Volevo che c'è un problema muscolare? No. Benissimo, allora sono già due. Alessandro. E Chiesa. Chiesa, l'ho spiegato prima. Forse no, forse devo tornare a scuola a imparare l'italiano. O forse, non mi capite, perché qui ci sono due cose. Se uno parla, o io parlo male l'italiano, o lei non capisce. Eh, perché se no mi fate arrabbiare. Volevi serenio e tranquillo. Vi sto dicendo che Chiesa, dalla risonanza, non ha niente, sta male al dolore. Abbiamo parlato, se io devo avere un giocatore che è preoccupato, non lo faccio giocare. Finito. Vlaovic, problema alla schiena, non è muscolare. L'unico che abbiamo, Alessandro. Finito. Catene, non ce n'è. C'era stato anche Ken. Le catene sono quelle della bicicletta. C'era stato anche Ken, infortunato. Ken dove? Ha avuto un'infortunio. Dove? Dove? Quella è una roba vecchia di un anno, un colpo. Eh. Un colpo dove c'è un soprosso, che gli viene fuori il dolore. Finito. Eh. Allora, io sono sempre a me tranquillo. Però, venimi. Cioè, fate... Diciamo... Eh. No, però la domanda era... Eh, allora, c'era la domanda una o un'altra o mi fa questo? No, questa era la premessa. No, questa era la premessa e la domanda era... Ah, la premessa è che? Fammi la domanda, non mi fai le premesse. Bene, allora, in una stagione senza coppe... Cosa c'è? No, infortuna, come magari... Infortuna, cosa c'è? Se non ci fa un altro. Oh, perfetto. Finito. 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 Finito.